l'italia regno collezione di 99 monete in un album andiamo ancora peggio perché sono oscure ma cercherò di farvela vedere nel miglior modo possibile anche qua comunque la qualità è mista monete circolate e poco circolate e poco circolate qua siamo nel settore dei 5 10 centesimi io non so cosa riuscite a vedere spero di qua ci sono un paio di 20 centesimi esagono qua c'è la libertà librata quasi tutte manca e quello del 907 50 centesimi impero i leoni ce ne sono quattro pezzi c'è qui questa quadriga d'argento che è la quadriga dal dieci il buono qua ci sono altri due buoni qua le caselle sono vuote e poi ci sono due aquilotti per finire due lire in vero se volete altre video informazioni scrivete a filateliaghiocciola4baiocchi.com grazie a tutti